Bella a tutti ragazzi, sono sempre io, Pesco, eccomi di nuovo su GTA V perché oggi vi farò vedere un altro easter egg, insomma come lo volete chiamare voi davvero molto carino siamo sul monte Ciliad, se non sbaglio si dovrebbe chiamare così precisamente in questo punto dove ci sono questi paletti con le bandierine rosse nella mappa qui vicino alla funivia proprio qui andrete vicino questi paletti rossi e qui per terra troverete un altro peyote insomma come si chiama, voi lo mangerete e vediamo cosa succede questa volta sempre le solite allucinazioni e oggi entreremo in un uccello cioè incredibile io credo che posso toccare l'uco no mi sono già no mi sono scaraventato a terra con un uccello io volevo volare no vabbè in poche parole ragazzi sarete un uccello sarete che volerà purtroppo io l'ho fatto schiantare subito come un coglione deficiente e mi dispiace ragazzi però in poche parole questa volta entrerete nell'animo di un bel uccello voi volerete e cercate di non schiantarvi come ho fatto io ok ragazzi spero vi sia piaciuto il video iscrivetevi lasciate tutti un bel mi piace e ci vediamo con il prossimo video ciao a tutti